Tragedia Sant'Angelo invado 21enne si spara davanti ai carabinieri Riaprono gli asili nido controlli a tappeto sul green pass Dal consiglio comunale via libera un nuovo supermercato alla celletta Fiera di San Nicola col green pass viaggio tra i pareri del mercato Buona serata e benvenuti al nostro telegiornale di questo martedì 7 settembre Un telegiornale che apriamo con la cronaca e con una tragica notizia che arriva da Sant'Angelo invado Dove questa notte un 21enne è morto sparandosi con un fucile da caccia di fronte ai carabinieri L'insano gesto si è consumato nella casa in cui il giovane viveva da solo E dove i carabinieri di Urbino si erano presentati dopo averlo identificato come responsabile di un incidente stradale senza gravi conseguenze Un incidente avvenuto poche ore prima con il ragazzo in questione di leguatosi dal luogo del sinistro Avvenuto nella strada pedemontana nel territorio di Lunano Nell'occasione la donna alla guida di una delle due automobili coinvolte Ha preso il numero di targa dell'altra macchina datasi alla fuga E l'ha comunicata ai carabinieri che sono così risaliti al 21enne Una volta presentatisi a casa il giovane ha finto di cambiare stanza per andare a prendere i documenti Ha invece imbracciato un fucile da caccia legalmente detenuto Si è sparato in volto ed è morto all'istante Il ragazzo che era operaio in una ditta di impianti elettrici lascia la mamma e due fratelli E dopo questa tragica notizia cambiamo completamente argomento Torniamo ad occuparci di Green Pass in vista della ripresa della didattica in presenza Aspettando il ritorno sui banchi di scuola della prossima settimana Domattina gli asili nido saranno i primi istituti a riaprire le porte a bambini e famiglie Una ripartenza con controlli a tappeto in merito all'obbligo della certificazione verde per il personale Prosegue il conto alla rovescia sul ritorno della didattica in presenza al tempo del Green Pass Aspettando il fatidico 15 settembre che riporterà gli studenti pesaresi sui banchi di scuola Sono i bambini più piccoli e le loro famiglie i primi a rientrare all'interno di istituti alle prese con la novità della certificazione verde Mercoledì 8 settembre riaprono infatti 13 asili nido comunali rivolti ai piccoli fino ai 3 anni Lunedì 13 settembre seguiranno invece le scuole dell'infanzia Si riparte con il possesso e l'esibizione obbligatoria della certificazione verde Covid-19 valevole per tutto il personale educativo e ausiliario presente nei plessi sia quello comunale che quello delle cooperative affidatarie Personale che ha ripreso servizio negli istituti il 30 agosto scorso e qualche giorno dopo sono scattati i controlli quotidiani sul rispetto di Green Pass L'assessore comunale alla crescita Giuliana Ceccarelli ha riferito come su 218 lavoratori soltanto una persona è stata trovata sprovvista di certificazione e non ha potuto prendere servizio Uno stop che arriva a pochi giorni da quello imposto a due insegnanti della scuola Galilei di Villa Fastigi sorprese a rientrare in servizio senza Green Pass La norma prevede una sanzione che va da 400 a 1000 euro e l'allontanamento del servizio fino alla messa in regola A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro può essere sospeso senza la dovuta retribuzione Ed ora i nostri aggiornamenti riguardanti Covid-19 sul nostro territorio Restano stabili contagi nelle Marche con 110 casi e un 3,4% di tamponi positivi al contagio Lieve la crescita dei ricoveri con 79 casi, due in più di ieri, 20 dei quali in terapia intensiva Oggi non si sono registrati decessi di marchigiani contagiati da Covid-19 Un nuovo supermercato alla Celletta, un nuovo finanziamento per il Palace Cavolini ma anche un nuovo dirigente ai lavori pubblici Sono questi i temi al centro del Consiglio Comunale di Pesaro tenutosi nel pomeriggio di ieri che andiamo ad approfondire in questo prossimo servizio di Daniele Sacchi Ci troviamo oggi nel quartiere peserese Celletta-Santa Veneranda e precisamente all'angolo fra via Bonini e via del Novecento In questo luogo i capannoni fatiscenti che vedete alle nostre spalle lasceranno presto spazio a un nuovo supermercato 2500 metri quadrati di struttura di media distribuzione che hanno avuto ieri il via libera in Consiglio Comunale senza voti contrari Non ci sarà solo un nuovo supermercato ma anche interventi di migliorie a livello di parcheggio con riqualificazione di marciapiedi e di percorsi ciclabili Una riqualificazione del valore di 110.000 euro che sarà proprio a carico dell'azienda privata che realizzerà il punto vendita come scomputo di oneri di urbanizzazione proprio destinati alle migliorie in tema di viabilità e di sosta in questa zona Grandi manovre non solo alla Celletta ma passi avanti anche nella realizzazione del Palace Cavolini su quello che fu il Palace Port di Viale dei Partigiani Il Consiglio Comunale ha infatti approvato all'unanimità la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 completando così l'operazione che vede ora il Comune diventare unico proprietario dell'intera struttura Uno status che permette così di accedere ad un contributo da parte del GSE ovvero della società dello Stato che persegue le finalità di sviluppo sostenibile ed efficientamento energetico Una richiesta che ha avuto esito positivo ottenendo il contributo per rendere il Palazzetto dello Sport all'avanguardia che sarà di 1.756.000 euro Proprio in tema di lavori pubblici il Sindaco Matteo Ricci ha presentato ieri anche Maurizio Severini come neodirigente alle nuove opere selezionato dal Comune di Pesaro Una nuova figura che si affiancherà ad Eros Giraldi che seguirà invece manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il progetto del Palazzetto dello Sport Temi al centro di un Consiglio Comunale che dalla prossima seduta potrebbe essere col Green Pass obbligatorio Un provvedimento proposto dal Presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini ora in attesa di approvazione Venerdì 10 settembre dopo un anno di stop causato dalla pandemia ripartirà la tradizionale Fiera di San Nicola a Pesaro Con la novità chiaramente quest'anno dell'obbligo di Green Pass per poter accedere agli stand Il nostro Edoardo Razzi è stato questa mattina al mercato San Decenzio per raccogliere alcuni pareri in merito al provvedimento attualmente non previsto nelle regole del mercato settimanale Siamo a tre giorni dall'inizio della Fiera di San Nicola dopo lo stop di un anno forzato dalla pandemia In linea con le normative nazionali l'accesso alla Fiera sarà consentito solo con il Green Pass che sarà verificato dalle autorità all'ingresso con un controllo campionario Dovranno essere in possesso del certificato verde solamente i fruitori E oggi siamo andati a sentire alcuni pareri al mercato di San Decenzio proprio in merito alla decisione presa per la Fiera di San Nicola Preoccupati invece gli ambulanti per la possibile scarsa partecipazione date le restrizioni Per la sicurezza di tutti penso che sia una cosa giusta anche perché lo prevede un decreto nazionale, una legge nazionale dove appunto i fruitori hanno l'obbligo del Green Pass Per la sicurezza di tutti è giusto E' anche vero che le persone che vogliono andare in spiaggia che vogliono andarsi a prendere un gelato che vogliono andare al ristorante vogliono andare a trovare un amico all'interno del perimetro della Fiera non hanno l'obbligo di mostrare il Green Pass quindi possono anche non avere il Green Pass Cosa ne pensa dell'obbligo del Green Pass per poter accedere alla Fiera di San Nicola per i fruitori? Allora io sono d'accordo sicuramente perché ci sarà moltissima gente già se pensato io sono vaccinata e ritengo che vaccinarsi non è un obbligo ma è una cosa molto importante perché noi dobbiamo pensare che in ogni famiglia c'è comunque qualcuno di fragile che anche col vaccino non è totalmente protetto per cui se non vogliamo farlo per noi cerchiamo di avere un po' di buon senso e cerchiamo di pensare anche a chi è in famiglia che non può farlo a chi corre dei rischi alle persone che sono vicine a noi se non vogliamo pensare agli estranei secondo me, io sono d'accordo, l'ho fatto Io sono favorevole, io sono favorevole al Green Pass sono favorevole alla vaccinazione perché sono morti tante persone che non erano vaccinate il mio babbo è morto e non era vaccinato capito? E allora io sarei favorevole al Green Pass sia per chi fruisce della fiera sia per gli ambulanti e così la vita è la cosa giusta non so perché gli altri protestano ma io penso che se gli passa vicino la morte, lo pensano anche loro che sia opportuno vaccinarsi Mi sembra una grossa stupidaggine una stupidaggine che tra l'altro non ha nessuna possibilità di essere controllata in maniera adeguata perché se la fiera viene fatta come solitamente per tutta l'estensione di Viale Trieste ovviamente non puoi fare un controllo agli accessi perché sono troppo numerosi e il controllare così a campione mi sembra impossibile almeno di non impegnare un numero di agenti o di poliziotti non so chi per poterlo fare secondo me sarebbe stato molto più logico fare come viene fatto qui nei mercati nel mercato normale imporre l'obbligo della mascherina imporre che ci siano le bancarelle adeguatamente distanziate per evitare degli eccessivi assembramenti e mi sembrava una cosa molto più logica molto più fattibile e razionale domenica 19 settembre all'Alto Mare Restaurant di Pesaro in strada panoramica adriatica si darà il pranzo della domenica con Ant pranzo in cui parte del ricavato sarà destinato all'assistenza specialistica domiciliare e gratuita garantita da Ant nella provincia di Pesaro Urbino che nel 2020 ha visto 5 medici, 6 infermieri e uno psicologo assistere 414 malati di tumore ci si può prenotare al pranzo con Ant entro il 13 settembre chiamando o inviando un whatsapp al numero 348 26 26 147 dal 10 al 12 settembre Pesaro, città unesco della musica diventerà Piano City tre giorni in cui la musica dei pianoforti risuonerà in tutta la città in un progetto artistico di Filippo Umbri sostenuto da Comune di Pesaro Amat e Conservatorio Rossini sono previsti 16 concerti dedicati al pianoforte con due location d'eccezione teatro sperimentale e anfiteatro del Parco Miralfiore ad esibirsi artisti internazionali e giovani talenti del Conservatorio tra gli ospiti la giapponese Maki Nakegawa Roberto Cacciapaglia Immanuel Imanov e Aold Lopez Nussa che inaugurerà il Festival Miralfiore venerdì alle 20.30 con il suo Piano Cubano Continuiamo a parlare di cultura e di musica con sei concerti in sei teatri delle Marche tutti ad ingresso gratuito e questa infatti la proposta di Sipario prima edizione di un nuovo festival musicale itinerante promosso da Bipper Banca e organizzato dall'Orchestra Sinfonica Rossini sei grandi concerti in sei affascinanti teatri marchigiani fra il 25 settembre e l'11 ottobre sei performance ad alta qualità musicale tutte ad ingresso gratuito è questo l'assist alla cultura regionale che arriva dalla Bipper Banca attraverso Sipario Arte Teatro la prima edizione di un festival musicale delle Marche organizzato dalla supervisione artistica dell'Orchestra Sinfonica Rossini ed ha a di eventi Bipper Banca dopo l'acquisizione del ramo d'azienda da Intesa San Paolo degli Ex Postelli Ubi ha assunto un'importanza rilevante sul territorio quindi noi siamo presenti con 130 sportelli prima ne avevamo soltanto 13 e di conseguenza siamo il secondo istituto sul territorio questo fa sì che il nostro istituto abbia un occhio di riguardo per tutte quelle manifestazioni che danno valore aggiunto al territorio indipendentemente dalla nostra attività caratteristica Sipario è veramente una cosa importante riteniamo di riuscire a coinvolgere i cittadini la cittadinanza marchigiana e coinvolgerla in attività che è molto molto interessante innanzitutto è anche un modo di rinassere della cultura e diciamo che se non c'è cultura non c'è neanche economia di conseguenza riteniamo che portarli a teatro in presenza sia un avvenimento molto importante innanzitutto è aperto a tutti la cittadinanza in modo gratuito quindi penso che ci faccia onore la banca investe molto su questo fronte biglietti gratuiti che si potranno prenotare a partire dal 10 settembre sul sito www.sipariofestival.it il 25 settembre sarà Giovanni Allevi allo sperimentale di Pesero ad alzare Sipario su sei grandi concerti organizzati dall'orchestra sinfonica Rossini gli artisti a partire dai solisti Giovanni Allevi, Danilo Rea, Petra Magoni poi progetti con orchestre The Legend of Morricone con l'ensemble Symphony Orchestra diretti da Giovanni Giacomo Loprieno poi Fabio Armigliato assieme all'orchestra sinfonica Rossini e il Cross Sound tante volte eseguito in questo territorio ma sempre richiestissimo dedicato ai Pin Floyd Pin Floyd, la storia e la leggenda i teatri sono quelli magnifici della Regione Marche a partire dallo Sperimentale di Pesero passando per il Gentile di Fabriano il Teatro della Fortuna di Fano il Teatro per Golesi di Iesi il Teatro delle Musee di Ancona e il Ventilio Basso di Ascoli Cultura marchigiana che si mette in rete per un progetto presentato al Museo Nazionale Rossini di Pesero alla presenza di assessori alla cultura e direttori di teatro coinvolti nel festival Mi preme ringraziare sia Saul Salucci che ha reso possibile tutto questo che ha organizzato questo bellissimo cartellone e lo sponsor B per Banca che naturalmente lo ha reso possibile per noi è un onore fare parte di questo cartellone che coinvolge altri prestigiosi teatri oltre al nostro Teatro Gentile da Fabriano e ci coinvolge con un bellissimo concerto di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti che è un duo ormai consolidato ad anni e che avremo il piacere di ospitare nel nostro teatro che tra l'altro mi dicono io non sono un esperto del settore ma mi dicono essere uno di quelli con la migliore acustica insomma regionale insomma uno tra i migliori quanto meno Le Marche unite da una rassegna musicale davvero importante finanziata da Biper io ringrazio Saul Salucci dell'orchestra Rossini per avere coinvolto il comune di Ascoli per questo evento di chiusura con il pianista Danilo Rea apriremo il nostro massimo cittadino quindi il Teatro Ventidio Basso questo ci rende molto felici e orgogliosi vogliamo che il livello culturale della nostra città rimanga sempre elevato anche in funzione della candidatura a Capitale Culturale del 2024 che vede tra l'altro presente anche la candidatura di Pesaro quindi le Marche unite in un grande progetto culturale Ed ora alcune notizie riguardanti lo sport è ufficiale l'Ital Service giocherà il main round di Champions League di calcio a 5 all'RDS Stadium di Rimini il comune ha fatto un ultimo tentativo per permettere alla squadra del presidente Pizza di usufruire della vitrifrigo arena purtroppo però non si sono trovate le coincidenze giuste con gli impegni della VL nell'impianto Rimini ha vinto anche la concorrenza di Urbino le partite dell'Ital Service nel Palasport Romagnolo si svolgeranno dal 26 al 31 ottobre Il pilota del moto mondiale Franco Morbidelli è stato insignito del premio La Moda Veste la Pace 2021 promosso da African Fashion Gate e consegnato ieri in una cerimonia nel comune di Tavuglia premiato Morbidelli per i messaggi antidiscriminatori e inneggianti a lungo aglianza incisi sul suo casco un riconoscimento sul quale Rossini TV ha realizzato uno speciale di approfondimento che potrete vedere appunto nella nostra emittente venerdì 10 settembre alle ore 21.20 intanto però ascoltiamo l'intervista di Paolo Pagnini a Franco Morbidelli che ha parlato del premio ricevuto e dell'imminente ritorno in MotoGP Quando mi hanno informato di questo riconoscimento l'ho preso molto alla leggera come prendo io spesso le cose e invece è stato molto piacevole vedere tutta l'accoglienza e vedere l'importanza e la serietà e l'importanza in questo sentimento e in questo riconoscimento quindi sono molto contento di aver vissuto questo pomeriggio Dopo il secondo posto al campionato del mondo dell'anno scorso era difficile attirare ancora più attenzione se non vincendo il campionato mondiale invece ce l'hai fatta lo stesso prima l'infortunio e adesso questo cambio addirittura in corsa è proprio il caso di dirlo verso la Yamaha ufficiale Sì, sì, sì dopo l'anno scorso sapevamo che sarebbe stato molto difficile quest'anno specialmente con la condizione tecnica che vivevamo ma sì, durante l'anno c'è stato questo infortunio e mi sono fermato e il team risalirò su una moto ufficiale senza praticamente aver corso sono contento sono contento di questo raggiungimento sportivo sono contento sono grato a Yamaha per questa opportunità sicuramente sono grato al team Petronas per l'opportunità che mi ha dato negli scorsi due anni e mi sto impegnando molto per riuscire a recuperare il prima possibile da questo infortunio tornare al 100% e dare il massimo sopra la Yamaha ufficiale Sappiamo che sei proprio pronto per andare in palestra il ginocchio è ben protetto l'appuntamento è per il 18-19 sì, sì, ci siamo dati questo obiettivo che è quello di correre a Misano e ce la sto mettendo tutta è dura ma ci sono miglioramenti incoraggianti in vista di Misano quindi spero di farcela Continuiamo a parlare di sport in questo caso sport che si unisce alla solidarietà questa volta parliamo di un'altra disciplina in crescita come ad esempio il Paddle che domenica sera è stato protagonista del primo trofeo Iopra un torneo organizzato ai campi Smash & Paddle Beach di Baia Flaminia che ha radunato 100 partecipanti con il ricavato delle iscrizioni devoluto alla Onlus che assiste i malati oncologici un torneo che è stato anche seguito dalle nostre telecamere di Rossini TV vediamo la prima edizione del trofeo Iopra ha incoronato allo Smash Paddle & Beach di Baia Flaminia l'abilità alle racchette di Paddle di Roberto Forni e Andrea Banci che hanno battuto nella finale maschile di domenica sera Andrea Massanelli e Marco Nobili così come Sofia Calcinari e Delisa Lenti hanno avuto la meglio in finale femminile su Laura Carloni e Isabella Ponzio a vincere però non sono state solo due coppie di sportivi ma un'intera città di Pesaro capace di organizzare la prima partecipata edizione di un torneo di beneficenza il cui ricavato è stato devoluto all'assistenza ai malati oncologici dello Iopra un torneo apparecchiato grazie ad un'idea della consigliera regionale Michela Vitri assieme all'organizzatore Leonardo Stacchiotti e ai soci del complesso sportivo Smash è stata una giornata di sport e solidarietà ma soprattutto di festa perché qui allo Smash Paddle in Baia Flaminia sono arrivate circa 100 persone per giocare ma soprattutto per contribuire a una causa importante sostenere lo Iopra l'istituto pesarese che assiste i malati oncologici nelle proprie abitazioni e il consiglio regionale ha voluto patrocinare questa iniziativa partita dallo Smash grazie a Leonardo Stacchiotti che ha messo in piedi davvero una macchina organizzativa perfetta a cui hanno contribuito tanti partners dal Lions Club ai commercianti e titolari di tante attività a Baia Flaminia tutti coloro che sono entrati oggi in campo e che quindi hanno donato l'iscrizione allo Iopra e poi tutti coloro che sono arrivati qua per una giornata di festa tra i partner ovviamente anche Rossini TV presente a questa iniziativa a scopo benefico per cui vale la pena davvero ringraziare alla fine di questa giornata tutti coloro che hanno partecipato è stata una bellissima giornata di beneficenza ma anche di divertimento per tutti quanti tantissima gente che non aveva mai giocato a puzzle si è appunto buttata in campo ed ha provato a giocare un gran divertimento quindi è stata una cosa positiva di due i sensi sia a livello di beneficenza sia a livello di divertimento collettivo Abbiamo fatto tante donazioni allo Iopra che era l'obiettivo principale e le persone sono venute si sono divertite e hanno provato le nostre attività donando qualche cosa allo Iopra quello che abbiamo potuto fare per cercare di venire incontro ai volontari che tutti i giorni si adoperano per aiutare i malati Alla soddisfazione degli organizzatori si è accompagnato lo spassionato ringraziamento dell'OIopra È una cosa molto importante perché l'OIopra vive di questo e dell'aiuto che ci viene dato da tutta la città Noi siamo una onlus nata a Pesaro nell'87 e quindi abbiamo operato sempre a Pesaro per il bene dei nostri pazienti assistiti che quando escono dall'ospedale Continueremo grazie a questo contributo nella nostra opera e mi auguro sempre che ci siano ancora tanti aiuti da parte di tutti perché viviamo di questo Il Trofeo Iopra è alla prima edizione ma è destinato ad essere accompagnato da tante iniziative di Paddle anche nella prossima stagione autunnale e invernale Quest'inverno noi lo Smash proporremo un'accademia seguita da me più altri istruttori e cercheremo di organizzare anche degli eventi per tutti gli amatori e agonisti del nostro circuito Per quanto riguarda invece il 2 ottobre stiamo cercando di organizzare un evento con i sordomuti per sempre a scopo benefico per cercare di creare un ambiente più disteso e divertente possibile per tutti e per tutte le età E allora davvero complimenti a tutti gli organizzatori di questo primo Trofeo Iopra noi siamo molto contenti di essere stati media partner di questo evento Adesso invece andiamo a vedere quale sarà la prima serata di questa sera su Rossini TV Prima serata che vi ricordiamo sarà per i prossimi mesi sempre alle 21.20 Questa sera vi portiamo in Marocco con questo bellissimo racconto nella nostra TV dei viaggi E poi ricordiamo anche che dal 1 settembre il nostro telegiornale c'è solo alle 20.40 La prima edizione la trovate alle 20.40 Subito dopo i notiziari nazionali vi potete collegare sul canale 633 e vedere le notizie della provincia di Pesaro Urbino Queste sono le repliche la sera stessa e poi le repliche anche del giorno seguente Per essere sempre più a contatto con Rossini TV il consiglio è quello di scaricare gratuitamente attraverso Google Play e App Store la nostra applicazione attraverso la quale potete vedere tutte le nostre notizie rivedere i programmi vederli in diretta e poi contattarci anche se volete informazioni per quanto riguarda la promozione e la pubblicità della vostra azienda oppure per mandarci le vostre segnalazioni con foto e numero di Whatsapp Ho detto davvero tutto Buona serata in compagnia di Rossini TV Noi ci ritroviamo domani mattina puntuali alle 7.20 con il nostro Buongiorno Rossini Grazie a tutti